Posso chiederle che rapporto ha con l'arte, è venuto a visitare l'arte fiere, se era già venuto e che impressione le fa insomma vedere questo formento culturale, artistico naturalmente? Ma io sono attratto da tutte le forme d'arte naturalmente, la musica, la letteratura, l'arte figurativa, la scultura, quindi questa è una manifestazione importante nella mia città, bisogna venire, guardare, si impara sempre qualcosa. Cosa le piace? Colleziona, compra? Ma qualche volta anche, avevo collezionato ai miei tempi tante cose, poi le cose cambiano, ogni tanto c'è qualche giovane autore che mi interessa, però mi piace vedere. Dico un'altra cosa, dipinge, ha mai usato come forma espressiva quella del disegno, della pittura, insomma fra le tante che usa lei, è un poeta, canta, scrive e dipinge anche? Ma sì, ho fatto delle cose, però sono bruttissime, sono a casa mia nascosta.